L'Avvocato Massimiliano Di Cuia è candidato al Consiglio regionale pugliese a sostegno di Raffaele Fitto, Presidente. In uno dei precedenti nostri incontri, in una delle precedenti interviste, abbiamo parlato di sviluppo economico del territorio connesso e adesso connesso ovviamente il rilancio occupazionale. Lei ha fatto menzione del turismo. Approfondiamo questo aspetto. Credo che sul turismo dobbiamo essere tutti concordi sul fatto che è una risorsa assolutamente prioritaria che dobbiamo rilanciare e rivalorizzare. In questi giorni ci rendiamo conto che la nostra provincia è ricca e piena di turisti che vengono qui per le nostre bellezze naturali. Certamente questo è un valore aggiunto che noi abbiamo e che dobbiamo adeguatamente sfruttare. Però fare turismo vuol dire formazione del personale che opera nel settore turismo. Dobbiamo fare in modo che la Regione Puglia, e questo è un impegno, incentivi l'attività di formazione delle persone che lavorano nel settore turismo. Non è possibile che in un territorio che si candida ricevano turisti stranieri pochissime persone sappiano parlare l'inglese. Dico una banalità per dire che sulla formazione sicuramente noi dobbiamo investire moltissime risorse. Dopodiché dobbiamo parlare di infrastrutture legate al turismo. Penso ad esempio che negli ultimi due anni la nostra litorania è stata spezzata in due, interrotta per via del crollo di un ponte che era a cavallo tra la marina di Lizzano e quella di Taranto, ci sono voluti due anni e mezzo per ricostruirlo. Nel canale di Ostone. Esattamente, ci sono voluti due anni e mezzo per ricostruirlo. È evidente che se vogliamo parlare di turismo dobbiamo essere più concreti e fare in modo che un'opera di quel tipo, assolutamente banale dal punto di vista strutturale, possa essere realizzata in tempi molto più brevi. Perché quell'interruzione ha determinato la morte turistica di un territorio per circa due anni. Quindi non dobbiamo riempirci la bocca di turismo. Dobbiamo mettere in campo azioni piccole e concrete perché abbiamo la fortuna di vivere e godere di un territorio le cui risorse naturali ci danno già una predisposizione naturale appunto al ricevere turisti, a fare turismo. Quindi dobbiamo fare in modo che la regione si occupi di eliminare ostacoli e di creare nuove opportunità. Grazie.